Grazie Presidente. Allora, vedete consiglieri, questa legge di bilancio è lo specchio della Regione Toscana. Si possono ritrovare tutte le criticità, i limiti e le storture di questa amministrazione e i vizi di forma che la caratterizzano. La legge del febbraio 2008, la numero 4, prevede al titolo 2, articolo 6,1, l'autonomia di bilancio contabile del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto. Chiedo gentilmente al Presidente se può fare silenzio in aula perché sento i brutti insopportati. Prego il silenzio, ora con me lo potevate fare perché tanto c'è, però è giusto che i consiglieri quando intervengano abbiano le dovute condizioni di silenzio. Allora, valutiamo con positività molte modifiche alle voci di spesa di questa gestione e delle gestioni future. Buoni propositi in alcuni casi, vere e proprie riduzioni in altri e in alcuni casi tentativi molto timidi di riduzione che non vanno a soddisfare quello che la nostra linea politica e i nostri principi fondanti sostengono. E vado qui a elencare, valutando positivamente, la riduzione del numero dei consiglieri regionali e degli assessori, l'abolizione dell'istituto del vitalizio per la decima legislatura, la più recente abolizione del doppio vitalizio per i consiglieri toscani, ma anche la riduzione del personale e della segreteria generale. Alcune poi dismissioni di sedi e palazzi. Per ciò che concerne la riduzione del personale, questo è dovuto alla cessazione dal servizio di personale di qualifica dirigenziale di quattro unità. Resta comunque elevato il costo complessivo delle dirigenze. A tal riguardo, spenderei di più, come enunciato alla missione 1, programma 1, qualificazione della funzione legislativa, nel lavoro che va nel senso della massima trasparenza e comprensibilità dell'architettura legislativa, al fine di rendere il processo legislativo più chiaro e diretto, ma che soprattutto vada a eliminare questa distorsione tutta italiana della interpretabilità delle leggi. La scrittura più importante che fa da fare o che dovrebbe far da fare alla nostra vita politica e istituzionale è proprio la Costituzione, che siamo riusciti a salvare salendo sui tetti del Parlamento a difesa del lucchetto della nostra Costituzione, che è l'articolo 138. e sarà a nostra cura controllare e verificare tutti i passaggi che vogliono tendere a una semplificazione senza sminuire il lavoro legislativo, ma anzi rendendolo la più alta funzione di ogni assemblea legislativa. La nostra Costituzione, la legge, la comprende anche un bambino ed è quello che tutte le leggi dovrebbero essere. L'arte più elevata e più proficua è infatti quella della semplicità. Infatti, anche dalla breve esperienza che ho in Consiglio, vedo che le leggi meno comprensibili sono quelle che sono state ritoccate più e più volte ed è in quegli atti complessi che si nasconde spesso il raggiro e il malaffare. Non dimentichiamo che solo la bontà e la solidità dello scheletro del diritto danno vita a un corpo legislativo esecutivo sano. Per ciò che riguarda l'abolizione dei vitalizi, e qui si parla dell'applicazione dell'articolo 11 e 27 bis della legge 3 2009, che ha di fatto tagliato l'istituto del vitalizio della regione toscana a partire da questa legislatura. E noi ne siamo ben felici, ma si può fare di più, come ho sottolineato in un precedente intervento. Noi siamo per l'eliminazione retroattiva di tutti i vitalizi. Solo in quest'anno infatti si tagliano, per favore Presidente, mi torno a sollecitarla, non a invitare l'Aula a fare silenzio. Prego, chiedo silenzio, chiedo silenzio. Se no, non ho più tempo qua. Allora, solo in quest'anno infatti si tagliano i doppi vitalizi, un cancro, un'emoragia che da decenni svilisce le energie del nostro Paese, devasta le persone, perché siamo continuamente subissati di notizie dove il delirio da potere e onnipotenza ha creato mostri. E dobbiamo esserne coscienti, signori. Potrei elencare un'innumerevole mole di nomi che per brama di possesso e potere hanno devastato parti importanti del nostro Paese. Ricordiamoci bene che chi dipende dalle droghe prima o poi muore o ha gravi deficienze, chi dipende dall'alco prima o poi muore o ha grossi accorciamenti della vita, ma chi dipende dai soldi, dal denaro e dal potere, amici, non sarà mai sazio e non avrà mai un confine dove trattenersi. Bene, per abbreviare un pochino i tempi, all'interno, allora non vorrei essere frainteso sul tema del denaro, non dobbiamo accanirci contro il denaro, ma come tutti gli alimenti essenziali vanno prima testati sui soggetti prima di dargli il via al consumo. All'interno di tutta questa rivisitazione di bilancio, all'interno di molte positività, ecco che sono andato a vedere i costi che sono stati impiegati per la festa della Toscana e in questo caso potevamo fare meglio. Per cortesia silenzio. La festa della Toscana è incentrata sulla figura di Pietro Leopoldo. Fu proprio il caso, cioè la morte del fratello Carlo, a farlo entrare al governo del Granduca di Toscana. Si sposò con Maria Luisa e poi ebbe una grave disgrazia perché in tempi diversi perse entrambi i genitori. I genitori, è singolare ricordare, Francesco Stefano e Maria Teresa avevano lasciato al figlio documenti scritti per dare consigli e linee guida al suo governo. Entrambi si erano preoccupati di suggerirgli la necessità di fare economia sulla vita di corte, di non lasciarsi andare in banchetti sontuosi, di non fare ingordigia di feste e balli. Prego, sono già 50 secondi. E Pietro Leopoldo seguì pedissequamente queste direttive, cosa che il Consiglio regionale non ha fatto oggi e si torna alla realtà. E finisco e concludo, concedetemi i tempi che mi avete interrotto tre volte. Signori, un po' di rispetto, solo il rispetto. Concludo meno di un minuto. Allora, si sono spesi 350 mila euro, sono tanti, sono pochi, a noi sembrano molti, quindi in controtendenza con i precetti di Leopoldo. Una delle date più importanti è il 30 novembre, dove lui abolì la pena di morte. Cioè ci sono tutti degli eventi legati alla vita di Leopoldo, che sarebbero dovuti essere ripresi in tutte le manifestazioni e feste finanziate dal Consiglio regionale nei vari territori. Qui si assiste, purtroppo, a una distribuzione, anche per il singolo progetto, cioè guardandolo in modo anche superficiale, viene alloca la distribuzione del denaro in circoli territoriali legati alla politica. Sembra che ciascun consigliere abbia dato un contentino al proprio territorio. Ma io vi voglio leggere due esempi solamente. Guardi, è già due minuti oltre il tempo, lo sa che a noi non possiamo. Mi faccia la nota, me la manda, è già due minuti oltre il tempo. È veramente vergognoso, 3 mila euro, 2 mila euro, qui ci sono dei progetti che non rientrano nel disegno e nella storia della festa della Toscana. scuola di danza, progetto robot con la Lego. Signori, non si comprano questi voti. Grazie.